Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, ecco gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana, traffico che in verità scorre regolare su tutta la rete autostradale Toscana e in Fipilì, da segnalare quindi solamente alcuni cantieri. Partiamo dalla 1 fino alle ore 6 del 20 novembre e chiuso il tratto tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. In Fipilì questa notte, in orario 22.6 per lavori alla pavimentazione, rimarrà chiusa la carreggiata tra gli svincoli di Lastra Signa e Ginestra Fiorentina in direzione Mare. Sul raccordo Bettolle-Perugia ha chiuso lo svincolo di Cortone in ingresso e in uscita verso Perugia. Chiudiamo con i cantieri della città di Firenze da domani 19 novembre a venerdì 20 novembre per il ripristino di un chiusino fognario. Via dei Benci rimarrà chiusa da Via Mozza a Lungarno delle Grazie. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!